Grazie ragazzi Allora vi faccio una Grazie mille Come dicevo ci penserò io a svegliarvi Allora vi faccio una piccola presentazione di chi sono al volo per farvi capire perché ho il diritto di dirvi che WordPress fa schifo Allora sono uno sviluppatore full stack e seguo il progetto di WordPress ormai da tanti anni anche lo sviluppo diciamo ci lavoro, faccio MVP per startup fondamentalmente un acceleratore molto famoso della capitale e costruiamo dei piccoli prodotti da lancio per prendere poi finanziamenti e smontarli completamente e farli ricostruire da altri con altre tecnologie completamente diverse molto spesso questo avviene per un preconcetto o comunque sia per una peculiarità e per una cosa per cui è famosa WordPress cioè WordPress fa schifo, WordPress sucks è quello che ci dicono altri sviluppatori e molto spesso le cose additate come più sconvolgenti all'interno del sistema WordPress per proprio famose, notevoli per fare schifo sono la sicurezza abbiamo visto un video di Warfence ultimamente pubblicato su un attacco mostruoso che con due linee di javascript andavano a farsi un parsing di pasta e bin quindi fondamentalmente era un attacco mostruoso fatto da due linee di codice e vi dava accesso a una shell completa che vi avrebbe permesso di prendere possesso del server dove girava WordPress quindi sicurezza proprio abbiamo visto quel video ci siamo messi in malissimo obsolescenza ho visto tanti talk oggi parlare di per l'appunto retro-impatibilità un PHP 5.2 database MySQL che a quanto pare è diventato uno dei peggiori database al mondo lento non scalabile una user base poco tecnica questo purtroppo possiamo anche dire che sviluppatori WordPress sappiamo che non è proprio un titolo di cui ci si fa un vanto ecco io non vado in giro a dire sono sviluppatore WordPress ma in realtà faccio quello però vi ho detto full stack non vi ho detto WordPress poi una pochissima diffusione dell'enterprise nonostante abbiamo degli esempi abbiamo visto oggi Nando e altre persone che lo sfruttano abbiamo avuto Karim adesso non so se in sala però qualcuno dei suoi di crowd favorite che lavorano con dei big veramente nell'enterprise eccolo sono degli eccezioni sono degli unicorni non esiste gente che lavora nell'enterprise o WordPress fa schifo poi stanno ritardando mostrocento se resta API abbiamo visto che insomma il mondo si muove lì front end che macina API di un back end e non si sa neanche dov'è quindi perché siamo alla versione 4.4 ce le promettono dalla 4 ancora non le abbiamo viste io ce ne ho bisogno non posso più farne a meno repositi ufficiali di plugin e temi questo proprio alzo le mani se qualcuno di voi si è trovato bene con il repository ufficiale me lo faccia sapere gli pago io la visita psicologica e poi sinceramente c'è una mondezza incredibile non ci sono filtri lo sappiamo benissimo soprattutto tra i plugin ci sono quello è il metodo di diffusione poi che dà per l'appunto possibilità da bug infiniti sono le terze parti dei plugin non vengono aggiornati da 10 anni e poi svn si può gestire ancora un repository svn dall'epoca di git io mi trovo malissimo deployare insieme ai miei colleghi un plugin sul repo di wordpress con svn vi dico la verità io ho smesso di farlo c'è chi è da loro di metterlo su io lavoro su git e loro prendono e spostano su svn quindi ci ho scritto che solo i dev capiranno la frustrazione perché posso capire che chi non sa cosa è svn adesso ha un attimo di blank però vi posso assicurare che è una roba che non si usa più neanche in IBM che hanno dei sistemi anni 80 quindi vediamo qual è punto per punto gli appunti che mi fanno i miei colleghi questo è un appunto fatto su facebook da Bruno ciao Bruno sei rientrato nelle mie slide mi scriveva lui per l'appunto è un gran provocatore lavora un full stack developer insomma è uno senior ragazzo che ha preso in mano più progetti in php quindi ne capisce ci faceva notare lui è molto provocativo mi tagga sempre nei post di wordpress per insultarlo e mi ha scritto per l'appunto e non ricordava che dentro questo database ci fosse un varchar 20 invece per indicare uno status invece che un init un init era molto più semplice secondo lui meno risorse ho provato a dargli una risposta ma poi come al solito si finisce sul flame e siamo finiti all'assunto generale quello che poi mi contestano più spesso che è per appunto ed aggiungo che quel progetto intendendo wordpress si regge in piedi solo perché ci sono centinaia e migliaia di agenzie che marginano il lavoro di milioni di sviluppatori senza saperne leggere ne scrivere mezza riga di codice e lui lo boicotta quindi noi siamo liberi di farci business ma lui lo boicotta in realtà ha consigliato in altri post di boicottarlo ecco l'atteggiamento di Bruno è quello che c'è nell'enterprise nei confronti di wordpress parliamoci chiaro vi ripeto io non mi posso presentare uno sviluppatore wordpress nell'enterprise mi sputano addosso quindi andiamo a vedere in realtà perché Bruno non ci ha capito molto e quando vi dicono che wordpress fa schifo dovreste un attimo guardare in faccia chi è che ve lo sta dicendo fondamentalmente le domande che io mi pongo sono ma questa gente conosce il progetto cioè sa di cosa si parla ha mai contribuito alla community sa come si scala su un progetto del genere nel senso questo non è un giochino che uno fa per se stesso e non è neanche una roba custom che si fa nell'enterprise straspecifica questa è una roba che deve permettere a persone che fondamentalmente non capiscono nulla di programmazione o magari ne vogliono capire vogliono entrarci a piccoli passi di permettere di pubblicare cioè la mission di wordpress è ti permette di pubblicare un sito internet poi beh non male sta a chi lo sviluppa insomma dietro e alla community che si crea e voglio dire la community è importante e questa è una piccola citazione di Forbes e il creatore di Forbes che dice per l'appunto che è molto più facile darvi soluzioni a dei problemi quando in realtà i problemi non si conoscono è vero è semplicissimo ah fai così io avrei fatto questo per carità ma poi ti sei messo a farlo ti sei scontrato nella dura realtà ecco nel suo caso non era così e voglio anche aggiungere un'altra cosa una citazione bellissima uno dei responsabili del team di Bibripress anzi forse il principale responsabile anche del progetto di Buddypress chi non lo conosce consiglia anche di seguire il suo blog veramente bravo e lavora anche con Karim credo ogni tanto che dice per l'appunto WordPress è il pacman del web è molto facile da iniziare con WordPress però poi in realtà prenderci confidenza e saper gestire tutte le varie situazioni tra cui saper ottimizzare un database che secondo voi è fatto male magari una curva di apprendimento rapidissima nel primo step e poi arrivare oltre fondamentalmente si sembra avere passi dover fare passi da gigante questo perché è l'utente di WordPress e l'utente della community è questo è mio cugino lui è mio cugino per davvero quindi l'ho voluto citare nelle slide ciao Alessio ecco lui è molto bravo con i computer lavora in un negozio elettronica sviluppa si è fatto il sito per il suo negozietto con WordPress bravissimo perfetto lui è l'utente medio quindi non si può chiedere a lui di ottimizzare il database è impossibile e non gli si può dire ah no ma non usare WordPress che fa schifo sì probabilmente sì cioè non lo so ma per lui va benissimo anzi per lui è perfetto è bellissimo è l'unica cosa che conosce perché non conosce dietro cosa c'è cosa c'è dietro c'è PHP devi conoscere database in MySQL adesso JavaScript è diventato fondamentale una volta si usava jQuery ma si spera si arriverà alle RSTPI in maniera rapida lo sviluppo del frontend in HTML CSS i vari prepossocessori SAS Git e chi ne ha più ne metta questo è quello che deve conoscere lo sviluppatore WordPress medio quello delle agenzie di cui parlava Bruno per l'appunto che sta rovinando il mercato a tutti noi non si sa quale mercato però io voglio dire una cosa Bruno che questo cugino qui fa il 25% del mercato questo cugino qui fa il 25% del mercato di gente che usa i CMS e quindi in realtà questa affermazione è di una castroneria mostruosa non stiamo parlando di utenti programmatori noi stiamo parlando di potenziali clienti è un mercato immenso e oltretutto non so chi è di voi ha seguito il talk di Nando nell'altra sala però ecco lui vi può spiegare come due persone possono fare un business milionario sfruttando questo numero qui non è banale quindi chi vi dice WordPress fa schifo perché ci stanno i cugini io gli rispondo WordPress è un mercato stupendo perché ci stanno i cugini che non sanno programmare è bellissimo per me io sono quello che gli vende il tool meglio di così gli salvo un problema poi quello che voi chiamate obsolescenza io chiamo stabilità abbiamo visto che in realtà ecco stamattina poi mi fa anche piacere aver visto altri talk su questa linea e soprattutto quello di Luca che ringrazio voi la chiamate obsolescenza io la chiamo stabilità ci sono dei trucchi per mettere a posto quella roba che a voi fa schifo dovete solo un po' sbattervi voi non potete chiedere a WordPress di abbattere la retrocompatibilità che ha costruito per me è solida un software che mi garantisce retrocompatibilità è un software solido è un software che possa andare veramente all'enterprise a proporlo perché sono quindi 12 anni 13 anni che viene sviluppato e in 13 anni non ha mai perso un colpo nella sua versione precedente continua a portarsi avanti ecco forse PHP 5.2 ci ha un po' stufato però tra due anni magari non lo vediamo più non è che dobbiamo ci possiamo anche aspettare non dobbiamo correre per forza e oltretutto ci sono anche come abbiamo visto dei trucchi per superare questa obsolescenza basta sbattersi un pochino di più far quel passo oltre quel avere curiosità poi nella comunità wordpress io ho trovato tantissime persone tantissime persone disposte al dialogo e ho trovato strumenti aperti liberi per tutti tutti si parla allo stesso livello io oggi ho conosciuto tantissime persone qui dal vivo che non avevo mai visto parlando su slack su strumenti aperti di cui non dovete pagare nulla per accedervi hanno forum ci sono comunità di traduzione qualsiasi cosa pensate di poter fare qualsiasi contributo pensate di poter dare c'è uno strumento aperto e libero a disposizione per farlo e le comuni sono mostruose sono bellissime si creano dei rapporti stupendi io sono organizzatore del meetup di Roma posso dirvi che nel nostro meetup ogni volta si aggiunge gente nuova arriva qualcuno semplicemente interessato per capire come si fa per l'appunto a collaborare o a sfruttare meglio lo strumento con cui scrivono con cui guadagnano e vengono da noi e poi si accorgono che dietro in realtà c'è una community che non si parla di codice si beve birra si fa due chiacchiere in allegria poi se mi chiedi qualcosa ti rispondo anche ti do una mano però è un modo di vivere più che un diciamo è una strazione tecnica ecco uno strumento io vorrei dire a tutti partecipate fatevi sentire all'interno dei progetti del genere che vi danno le chiavi in mano e vi aprono le porte di casa perché poi allora potrete dire fa schifo però alle persone giuste a quelle che possono aggiustarle le cose è inutile andare a dire fa schifo in generale oltretutto ecco qui si è creata una situazione bellissima 300 quanti siamo non so circa 300 persone tutti insieme e vi invito a sfruttare giornate come queste anche per scoprire come partecipare vi invito ad andare a vedere il talk finale che tiene il mio collega Daniele che vi spiegherà ai developer che sono in sala come contribuire con una patch a wordpress chi non l'avesse mai fatto è una bellissima soddisfazione ve lo assicuro e quindi quando sappiamo come agire tornando al video mostruoso di wordfans la domanda non diventa più cosa cosa perché cioè wordpress fa schifo non è sicuro perché lo dovrei usare come lo metto in sicurezza la domanda diventerebbe cosa possiamo imparare dal video di wordfans come possiamo imparare a metterlo in sicurezza allora qual è stato lì l'errore decisamente intanto farli entrare da terze parti per l'appunto il plugin terzo scritto male perché di quello si tratta e come imparare a non fare quegli errori come passarli alla comunità con la quale dialoghiamo come andare per l'appunto dal tizio del plugin e dirgli guarda che questo è quello che hai causato forse è meglio se segui queste pratiche siccome si può parlare ve lo ripeto a qualsiasi livello noi apriamo il nostro codice a tutti su github se tu vuoi segnalarci una issue vieni sul nostro plugin la segni e noi ti rispondiamo me non interessa io non guardo neanche chi sei qual è il tuo colore della pelle qual è la tua origine non mi frega niente stai contribuendo mi stai dando un feedback mi stai dando una mano su qualsiasi livello io ti accetto come un fratello quindi venite a farlo e imparate dagli errori quando vi dicono wordpress fa schifo perché flow di sicurezza fa schifo non c'è più le password non sono lasciate bene l'algoritmo è vecchio questa è un'altra cosa che si sente ultimamente è vero però c'è anche persone che notando questa cosa hanno creato una piccola un piccolo scriptino e vi permetterà di passare se avete questa fretta e non volete aspettare il core ve lo installate vi hash a tutto le password vi cambia l'hashing il sistema di hash voi non fate nulla cioè qualcuno ci ha pensato perché la community è stupenda quindi adesso vorrei lasciare a voi intanto vorrei chiedervi se qualcuno di voi è incappato nella mia stessa situazione cioè di sentirsi dire che wordpress fa schifo vedo tante persone perfetto tutte queste persone qui io gli risponderei che wordpress non fa schifo siete voi che lo fate ok se avete qualche domanda o qualche insulto fate pure vorrei chiederti io vedo spesso siti fatti da agenzie che non usano un tema comprato ma sviluppano un tema che non mettono mai riferimenti a wordpress secondo te perché lo fanno e come si possono incentivare a metterlo senza andare a prendere di notte con un passamontagna allora intanto bisogna capire di che tipologia di siti parli se mi parli di una persona che se lo fa per il suo personale vabbè non c'è l'obbligo di mettere che ha fatto un wordpress cioè nel senso per la comunità sarebbe un bene a noi ci piacerebbe per carità se tutti i siti rimarchiassero però anche lì magari dall'aspetto sicurezza qualcuno ha paura e pensa se ti faccio vedere che è wordpress tu mi vai sul vp admin e mi fai in brute force magari ecco queste sono piccole tarie ti ripeto sta sempre a noi cercare di far contribuire le altre persone in queste piccole anche iniziative io soprattutto su wordpress.com mi sembra che non ti ha neanche permesso togliere dal fuoco perché loro danno il servizio è gratis ovviamente ho sfruttito lo server mi sembra giusto che li paghi stessa cosa dovrebbe ecco forse di questo si potrebbe iniziare a discutere nella comunità magari dal punto di vista di jetpack cioè se tu sfrutti la mia cdn le mie cose forse dovresti mettere un piccolo riferimento però poi il core a parte ci sono tantissimi metodi per scoprire che cos'è però se non devo essere io a raccontarti immagino essendoci un obbio nel mondo dell'open source è così c'è anche gente che ribrandizza Linux quindi insomma e non lo dice altre domande? a un principiante che vuole iniziare che cosa potresti dire per convincerlo a non scegliere Joomla e a scegliere WordPress adesso io sono arrivato adesso per cui magari ne hai parlato prima non lo so perché può essere può essere spontaneo so provare a fare un confronto allora iniziamo con il dire due cose io non ti posso convincere di dire un prodotto al posto di un altro soprattutto quando si parla di prodotti così simili sotto un certo punto di vista ma dissimili sotto altri sì 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 no non voglio ti dico in generale sì anche io però io vengo da Joomla te lo dico chiaramente il mio primo CMS utilizzato essendo uno sviluppatore PHP era Joomla poi l'ho trovato legnoso la mia curva d'apprendimento si fermava ad un certo punto capivo che avevo bisogno di qualcosa che fosse oltre il CMS e come abbiamo visto stamattina dall'intervento di Luca WordPress è un framework oltre ad essere un CMS quindi per uno che è un po' più orientato allo sviluppo e vuole imparare lì hai la possibilità di farlo in maniera corretta e diciamo dritta mentre su Joomla devi già avere cioè un po' più difficile secondo me ecco poi differenze vere e proprie per convincere una persona a utilizzarne una piuttosto dell'altra ad esempio io gli apro la bacheca e quella la conoscono tutti vado al cliente non gli vado neanche a spiegare e Joomla mi guarda un attimo perplesso ecco e poi c'è questa tendenza in Italia non si sa perché si pensa che Joomla sia più professionale di Wordpress mentre all'estero è il contrario queste però sono cose e poi la community ti posso dire la community Joomla non è così aperta come quella di Wordpress probabilmente anche dovuto alla diffusione del prodotto essendo un prodotto diffusissimo avendoci dietro comunque una company che gli permette di poi continuare a finanziarlo nel tempo mentre Joomla è un'organizzazione un po' più su base volontaria e basta forse anche il fatto che ha dietro un'azienda che riesce a sfruttare il prodotto e permetterti di mostrare come funziona all'interno dell'enterprise ecco poi chi mi dice Wordpress non è nell'enterprise io dico vai a vedere wordpress.com è fatto la stessa identica cosa tiene su non si sa quanti miliardi di siti non è scalabile forse non sei tu che sei in grado di farlo scalare e questa è quindi ti posso dare queste piccole motivazioni poi se sei un Wordpressiano sai perché lo ami finito grazie mille a tutti ragazzi grazie mille a tutti